bentornati i miei scommunicati nel sacro ordine di cpc games per un nuovo video andremo a prendere un millino di gem un ton of gems molto molto gustoso è riuscito questo nuovo codice di redenzione ce la posso fare a dirlo impostazioni codice di redenzione il codice è vm894 xs uc f confermiamo e parte il millino di germe direi non male direi che se continua così non ci dispiace perché anche se non ce le mettono il viaggio e meraviglie se ce le regalano così botta botta not not bad allora ragazzi facciamo un attimo un recap programmazione di questa settimana prossima eccetera arriveranno altri video allora oggi pomeriggio dovrebbe arrivare se ce la faccio in primo pomeriggio l'evento nuovo che sta arrivando sul test server quello che vi avevo detto c'era nel viaggio delle meraviglie del video che è uscito ieri poi ce la faccio giuro ce la faccio a fare il video sulle reliquie su come si scegliono le reliquie qual è la tier list eccetera il video con re ultras per rocket league per chi mi segue per rocket league dove parleremo dei 10 consigli per i beginner e se avete delle idee dei punti che vi creano dei dubbi di produce possiamo lavorare anche su altre idee e poi ragazzi vabbè arriverà ancora un video velocemente che analizzi questa team compa perché ci ho tirato un capitolo intero da quando l'ho fatta una roba fuori di cervello quindi io vi ringrazio di essere stati con me per questo video vi aspetto per i prossimi e nel mentre allora stasera dovrei essere live anche stasera quindi verso le nove non seguitemi su instagram se bg games su instagram per vedere le storie eccetera e quando vado live se non ci vediamo stasera io vi auguro un buon fine settimana io sono se bg e ci vediamo per un prossimo video